buongiorno piccoli amici e ben trovati nella mia soffitta oggi il nostro viaggio nel mondo di odd farà una breve pausa perché vi voglio raccontare una storia una storia molto bella alla quale io sono molto legato non so se la conoscete si chiama la storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare purtroppo qualche giorno fa è scomparso un grandissimo scrittore cileno luis sepolvera è colui che ha scritto questa storia meravigliosa e quale modo migliore per raccontarla nella mia soffitta a voi piccoli amici non cambierà nulla nella prima parte vi racconterò la storia e nella seconda realizzeremo i personaggi come nel mago di oggi non vi preoccupate non ci sono personaggi strani sono solo animali e vi farò vedere come realizzarli con le cose che abbiamo in casa pronti ci siamo vale la stessa regola allacciamo le cinture e si parte banco di aringhe a sinistra annunciò il gabbiano di vedetta lo stormo del faro della sabbia rossa accolse la notizia con strida di sollievo da sei ore volavano senza interruzione sentivano il bisogno di rimettersi in forze e cosa c'era di meglio per questo di una buona scorpacciata di aringhe lo stormo di gabbiani imboccò una corrente d'aria fredda e si lanciò in picchiata sul banco di aringhe centoventi corpi bucarono l'acqua come frecce e quando risarirono a galla ogni gabbiano stringeva un pesce nel becco aringhe saporite saporite e grasse proprio quello di cui avevano bisogno per recuperare energie prima di riprendere il volo quando tutti i gabbiani avessero solvolato la biscaglia sarebbe potuto iniziare il grande convegno dei gabbiani del mar baltico del mare del nord e dell'atlantico sarebbe stato un bell'incontro a questo pensava la gabbiana kenga le femmine avrebbero deposto le uova le avrebbero covate al sicuro da qualsiasi minaccia e quando i piccoli fossero spuntate le prime penne robuste sarebbe arrivata la parte più bella del viaggio insegnare loro a volare nel cielo di biscaglia kenga infilò la testa sott'acqua per acchiappare una regna e così non sentì il grido d'allarme che fece tremare l'aria pericolo a dritta decollo di emergenza quando kenga tirò di nuovo fuori la testa si ritrovò sola nell'immensità dell'oceano aprì le ali per spiccare il volo ma l'onda densa fu più rapida e le sommerse completamente quando tornò a galla la luce del giorno era scomparsa e dopo aver scosso il capo con energia capì che il petrolio le stava oscurando la vista con tutti i muscoli tormentati dai crampi per lo sforzo raggiunse finalmente il limite della macchia di petrolio e si sentì il fresco contatto dell'acqua pulita guardò il cielo ma i suoi compagni non l'avevano aspettato non per cattivelli ma perché questa era la loro legge quel dannato petrolio le incollava le piume della coda ma con grande sforzo kenga riuscì a spiccare il volo lo stesso per fortuna era una gabbiana giovane e forte volò a fatica verso l'entroterra il movimento delle sue ali si faceva sempre più lento e pesante perdeva vigore adesso non volava più così in alto vide che stava sorvolando un'alta torre ornata da una banderuola d'oro san michele stridette riconoscendo il campanile della chiesa di hamburgio e le sue ali si rifiutarono di continuare a volare intanto un gatto nero grande grosso prendeva il sole sul balcone facendo le fusa mi dispiace molto lasciarti solo disse il suo padroncino accarezzandogli il dorso ma devo andare in vacanza con mamma e papà il gatto nero si chiamava zorba senti chiudere la porta a doppia mandata e corse in balcone per vedere la sua famiglia adottiva prima che salisse in auto lui voleva molto bene a quel bambino che lo aveva salvato da piccolo quando era solo un battufolino di pelo nero nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole zorba senti il sibilo provocato da un oggetto volante e la gabbiana cadde sul balcone era un uccello molto sporco aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura e puzzolente zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali non è stato un atterraggio molto elegante mi agolò zorba mi dispiace non ho potuto evitarlo ammise la gabbiana senti sembri ridotta malissimo cos'è quella roba che hai attosso e come puzzi mi agolò zorba sono stata raggiunta da un'onda nera dalla peste nera la maledizione dei mari morirò stridette accorata la gabbiana vincendo la ripugnanza il gatto le leccò la testa la sostanza di cui era coperta aveva anche un sapore orribile senti amica io voglio aiutarti ma non so come mi agolò zorba voglio deporre un uovo con le ultime forze che mi restano voglio deporre un uovo amico gatto ti chiedo però di farmi tre promesse mi accontenterai ti prometto tutto quello che vuoi mi agolò impietosito promettimi che non mangerai l'uovo promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo stridette sollevando il cavo prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo e promettimi che mi insegnerai a volare allora zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava ma era completamente pazza prometto che gli insegnerò a volare e ora riposa io vado in cerca di aiuto mi agolò zorba balzando direttamente sul tetto Kenga guardò il cielo ringraziò tutti i buoni venti che l'avevano accompagnata e proprio mentre esalava l'ultimo respiro un ovetto azzurro rotolò accanto al suo corpo impregnato di petrolio questa è la prima parte della nostra storia abbiamo conosciuto due personaggi una gabbiana e un gatto questa gabbiana Kenga purtroppo non può più volare perché il petrolio gli ha tutto sporcato le piume e le aie e purtroppo morirà però prima di morire riesce a deporre un uomo oggi che cosa faremo? oggi faremo un bellissimo gabbiano ma con che cosa? beh, con tutto il materiale che ci occorre per il disegno fogli, matite colorate, colori, forbici un cartoncino che può essere benissimo un cartoncino della pizza e, oggetto misterioso di oggi papà del filo il filo che usa la mamma per cucire ce l'abbiamo tutti in casa mi raccomando aspettatemi comincia la creatività arrivo ciao rieccoci qua piccoli amici cominciamo ricordiamolo corrente io in casa ho trovato un cartoncino bianco ma se non l'avete non vi preoccupate va benissimo il cartone della pizza quando vi arriva la pizza a casa che sopra è bianco noi possiamo utilizzare benissimo quello perché è resistente non è proprio un foglio da disegno è un po' più rigido e si può colorare sopra abbiamo bisogno di un pennarello nero una matita delle matite colorate o degli apparelli un paio di forbici e del filo da cucire e direte che ci serve il filo da cucire attenzione ve lo farò vedere tra pochissimo mi raccomando cominciamo faccio vedere cominciamo il nostro viaggio prendiamo una matita a me piace questa prendiamo una matita e dobbiamo disegnare due sagome una sarà il corpo e la seconda saranno le ali possiamo disegnarle orizzontalmente poi dopo le taglieremo e cominciamo cominciamo dal campo facciamo una figurina non troppo non troppo grossa cominciamo con la coda il corpo e arriviamo con la testa che è fatta più o meno così con il becco e più o meno una cosa così vedete e il becco se vogliamo lo possiamo fare un po' ad uncino come tutti gli uccelli di mare per come avete capito dalla storia loro si buttano nel mare per prendere il pesce quindi vedete questa questa figurina se volete possiamo disegnare gli occhi e chiudiamo il becco questa è la prima sagoma faccio vedere meglio adesso dobbiamo fare le ali sotto prendiamo tutto il foglio dobbiamo fare prima una cosa così anche se non sono uguali uguali non vi preoccupate non vi preoccupate l'importante è che ci sia la punta una parte un po' dritta e l'altra punta dall'altra parte se non viene proprio uguale uguale non vi preoccupate lo sapete ecco qui ho fatto deve essere un po' più se vogliamo possiamo disegnare le nostre piume vedete faccio delle linee da questa parte e le faccio anche dall'altra parte che cosa ci serve allora più o meno a questa altezza vedete nel disegno del corpo dobbiamo tracciare qualche lineetta e voi direte perché dobbiamo tracciare qualche linea vedrete vedrete che cosa ci serviva adesso dobbiamo ritagliare tutte le figure e colorarle mi raccomando aspettate qui vi faccio vedere intanto io ho colorato le nostre ali con un po' di matita una matita nera e un pennarello nero per dare vedete la forma del colore delle piume e poi ho colorato il nostro corpicino sia da una parte che dall'altra mi raccomando vedete ho colorato il becco ho fatto gli occhi e ho messo un po' di grigio nero sulla coda adesso adesso c'è il momento più importante vi ricordate queste linee che abbiamo tracciato attenzione che cosa dobbiamo fare guardate bene guardate queste linee io delicatamente piego il mio gabbiano il mio gabbiano metano vedete la punta della coda coincide con la punta del becco senza schiacciare troppo prendo i miei forbici e faccio un taglietto dove io ho disegnato le mie clinette vedete 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 ho fatto il mio taglietto adesso molto delicatamente prendiamo le nostre ali il taglietto non deve essere troppo troppo grosso altrimenti o troppo largo altrimenti non è anche troppo stretto come l'ho fatto io perché sennò non passano delicatamente lo apri un attimo nella parte dietro ecco così probabilmente passerà vedete cerco di infilare le mie ali che arrivano più o meno a metà le possiamo piegare un po' verso il basso guardate 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 ooo e adesso che cosa facciamo? una cosa più bella vi ricordate? prendiamo io ho questo filo ne ho tanto prendiamo un pezzo del nostro filo abbastanza lunghino lo tagliamo con le nostre forbici prendiamo le due estremità prendiamo le due estremità e le mettiamo vicine le due estremità le mettiamo vicine vedete? e sotto viene una sorta di tondino mettiamo il tondino dentro il nostro taglietto che abbiamo fatto lo apriamo un attimo poi prendiamo la nostra punta vedete da una parte ho il tondino dall'altra ho la punta mettiamo la punta dentro il tondino e delicatamente faccio vedere delicatamente tiriamo delicatamente tiriamo in modo che vedete che fa il colonnino e noi con questo lo possiamo appendere guardate che bello che abbiamo fatto guardate 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 che bello guardate che bello lo potete appendere dove volete e questo sarà il protagonista della nostra storia mi raccomando bimbi ci vediamo presto ciao